ragazzi qua si inizia a far fatica allora della scalata ad alta quota bisogna imparare una tecnica fondamentale che all'inizio mi sembrava quasi impossibile ci ho messo un po' a impararla perché nonostante i miei 5 anni di medie però è da capire dall'inizio è un po' dura allora adesso ve la spiego per salire ad alta quota bisogna mettere un piede davanti all'altra così sembra complicato